Natura, sole, mare, monti Prendiamo la nostra casa più green. Come? Sostituisci la tua vecchia caldaia con la pompa di calore. Come fare? Vieni all'MVD, potremo consigliarti al meglio. Passa alle rinnovabili, vieni all'MVD. Pensate, potrete fare lavori ed iniziare a pagare dopo 30 giorni. Incomoderate! Iscriviti al leaveık湾. Grazie a tutti. Imbarco mezzi pubbliche assistenze, basterebbe buonsenso. Magagnini, coordinatore ANPAS, i diritti vanno rispettati senza sé e senza male. Allerta arancione, i sindaci valutano il rischio per le persone. Zini spiega il meccanismo dei provvedimenti per le allerte della regione. Di Ciabaldi nominato a commendatore della Repubblica, l'onorificenza per la vita dedicata al volontariato in carcere. Brevi dall'Elba, Portoferraio, i prelievi di sangue si fanno solo con zero code. Manifestazione a Portoferraio per i fatti di Pise e Firenze. Carcassa di Stenella sulla spiaggia del Sasso a Rio Marina. Prana di terra e arbusti, chiusa la strada Mola Naregno. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a questo nuovo telegiornale di Elba Press. Apriamo oggi con la cronaca riferita ad un fatto che si è verificato ieri l'altro sera al porto di Piombino quando un'autoambulanza è stata lasciata sul porto. Interviene sulla questione Paolo Magagnini, coordinatore dell'AMPAS, che dice che basterebbe soltanto avere un po' di buonsenso in questi casi e comunque i diritti vanno rispettati senza se e senza ma. Vediamo l'intervista di Magagnini. Grandi e tante pagine di giornale dopo che martedì 27 febbraio un mezzo che trasportava pazienti oncologici per la radioterapia a Livorno è stato lasciato a terra da una nave a Piombino. Paolo Magagnini, del coordinamento pubbliche assistenze dell'Elba, fa il punto della situazione. Non hanno fatto imbarcare un mezzo della pubblica assistenza guidata da una volontaria che si presta a fare questo servizio che è partita ieri mattina alle 7 e l'entrata ieri sera alle 18 perché la nave non ha voluto imbarcare il mezzo. Subito hanno detto che per via del mare non l'hanno imbarcato e allora i pazienti imbarcavano, però loro non l'ho. Però poi, quello che ho saputo dal paziente, sulla nave c'erano i mezzi, c'era l'ambulanza e c'erano altri mezzi. Non hanno proprio voluto imbarcare questo mezzo e non si sa perché. Quando la ragazza è andata a fare poi il biglietto per imbarcare, si è vista chiudere il portellone davanti e rimasta piena anche lei. Il modo con cui a volte sono trattati i volontari è inaccettabile, commenta Magagnini. Nel caso di ieri addirittura inspiegabile. Il problema con la biglietteria è che sembra di dover fare una guerra quando basterebbe un po' di buonsenso. Non dovrebbero succedere, ci vorrebbe un pochino più di umanità e guardare con chi si parla e con chi si sia. In realtà è successo anche un caso alla biglietteria per una signora che ha risposto brutto modo a questi due signori che dovevano venire dall'erba, che erano i pazienti a bordo della macchina. Non voglio mettere in croce nessuno, conclude Magagnini, ma le cose vanno dette. I volontari hanno diritti che vanno rispettati. Io che sono il coordinatore organizzo i viaggi tutti i giorni di persone meno fortunate di noi. Il male non guarda in faccia a nessuno. Faccio appello a questi signori, alla biglietteria, all'imbarco della nave, perché insomma trattino un pochino meglio le nostre macchine e per di più i volontari che guidano le macchine. Perché a volte uno parte la mattina all'otto e se rientra alle tre però deve andare anche al lavoro. Un volontario deve lavorare e se rimane fuori, rimane così, perde anche il lavoro. E allora ecco perché manca i volontari all'erba. Il problema è questo. Parliamo ora delle allerte meteo, soprattutto le allerte meteo arancione, cioè quelle di colore più intenso, l'arancione e il rosso, che possono far prendere delle decisioni ai sindaci che non sempre, che qualche volta, anzi provocano polemiche. Come in questi giorni c'è stata un'allerta arancione e sei sindaci elbani su sette hanno chiuso le scuole e anche i luoghi pubblici come giardini e luoghi all'aperto. Il sindaco Angelo Zini spiega com'è il meccanismo per sgombrare una volta per tutte il campo da equivoci. Sembra dare un po' di tregua il meteo dopo il maltempo dei giorni scorsi, in cui l'elba ha dovuto fare i conti ancora una volta con un'allerta arancione nella giornata di martedì, che ha comportato la chiusura delle scuole in sei comuni su sette. Il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini, ha voluto fare chiarezza su come funziona il meccanismo delle chiusure decise dalle ordinanze dei primi cittadini, per sgomberare il campo dalle polemiche che ogni volta accompagnano questi provvedimenti, partendo dal fatto che i sindaci sono autorità di protezione civile sul proprio territorio. Il sistema regionale di protezione civile, in caso di previsione di maltempo, emette un bollettino di protezione civile e emette il codice di allerta che si prevede nei vari territori. Questa graduazione dell'allerta è identificata da dei colori. Partiamo dal verde e arriviamo al rosso. Il verde è un'allerta di debole preoccupazione, l'allerta rossa è la massima preoccupazione. Ma ogni tipo di allerta, per bollettino della protezione civile, per disposizione della protezione civile, presuppone che ci siano possibili eventi che si possono realizzare su un territorio e possibili rischi per il territorio, ma anche per le persone. Allora, quando c'è un'allerta arancione, in questi possibili rischi si dice che c'è un pericolo diffuso anche per le persone, fino ad arrivare al rischio di morte. Così dice la descrizione dell'allerta arancione. Che cosa succede? Succede che la protezione civile regionale emette l'allerta, arriva sui territori, i territori devono valutare quale precauzioni prendere. A parte l'informazione, ovviamente, da dare a tutti i cittadini. E questa decisione sta in capo ai sindaci, i quali devono decidere non perché c'è una regola prefissata, cioè non c'è nessuna norma che dice che con quest'allerta devi fare questo, con quest'altra allerta devi fare quest'altro. Non lo dice nessuna regola. È la valutazione che si fa, appunto, nei territori che presuppone poi la scelta di emettere o non emettere un'ordinanza di chiusura delle scuole. Bene, la questione è molto semplice a questo punto e anche complessa. Cioè nel momento in cui si evidenzia un'allerta di un colore tale, nella quale si presuppone che ci possono essere rischi per la sicurezza, perfino per la vita delle persone, il sindaco, che è l'autorità di massima responsabilità della protezione civile, si assume la responsabilità di mettere in sicurezza massima il proprio territorio. E quindi in questo caso io faccio le ordinanze per chiudere le scuole e per chiudere gli altri luoghi dove possa esserci maggiore possibilità di insicurezza. Questo è quello che accade. Per cui il cittadino deve sapere che quando il sindaco Zini o gli altri sindaci emettono un'ordinanza, non lo fanno perché c'è una regola scritta che dice che quando c'è questa roba devi fare l'ordinanza. Devono fare una valutazione e la valutazione la fanno sulla base del livello di rischio massimo che la popolazione può subire. Ed ora una bella notizia. La Licia Baldi, la storica insegnante del Foresi, è stata insegnita dell'onorificenza di commendatore della Repubblica del Presidente Mattarella. È una notizia che è già circolata, è già stata diramata nei giorni scorsi, ma noi siamo andati a fare un'intervista proprio a Licia Baldi che ci ha parlato della sua esperienza all'Elba e anche di queste decine di anni all'interno del carcere come volontaria. Il 20 marzo sarà al Quirinali dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che le ha conferito l'onorificenza di commendatore della Repubblica. Licia Baldi, 88 anni, una vita dedicata all'insegnamento e poi al volontariato nel carcere di Porto Azzurro. Un riconoscimento che Licia accoglie con la sua consueta umiltà ma anche con molta felicità. Un riconoscimento anche al lavoro che insieme ai volontari dell'Associazione Dialogo sta portando avanti da ben 28 anni. Mi sento molto emozionata, felice e grata al Presidente. Quello che io ho fatto è poca cosa in confronto a quello che appunto fa lui. E poi voglio condividere questa onorificenza con tutti i miei amici volontari con cui ci siamo impegnati per portare avanti un progetto, quello cosiddetto della rieducazione e riabilitazione del condannato. Ma sono circa 40 anni che presta la sua opera di volontariato nel carcere dove poi ha contribuito a istituire un corso di scuola superiore. Inizialmente qualche difficoltà nel rapportarmi, avevo sempre paura di sbagliare, di non fare il passo giusto. Poi però mi sono affidata molto al mio cuore e al rispetto per gli altri sempre, alla collaborazione, a non sentirmi niente di che, ma una pedina con tutte le altre per costruire qualcosa di bello. Ed è importante per queste persone che sono in carcere e che sono prima di tutto persone. Molto da insegnare lavorando in carcere ma anche da imparare. Imparare che la vita, prima di tutto, è una cosa importantissima, va vissuta al meglio, che però ci sono tante, tantissime situazioni, non esiste una strategia perché ogni persona è diversa dall'altra e che ci sono anche tante responsabilità monte per il crimine che viene, bisogna leggere la storia della persona. Tiene molto caro questo incomodio del Presidente della Repubblica che condividerà con gli altri. Credo che festeggeremo, i miei amici. Le dico, ho avuto tra i riconoscimenti quello bello di un nipote che mi ha detto di essere orgoglioso della sua nonna e questo è uno dei più belli e logico che ho ricevuto. E poi un saluto a quella che è diventata ormai la sua terra di adozione. Sono Erbani, sono diventata Erbana d'adozione, nonostante la mia città nativa, quella che Marradi definisce la bella città rumoreggiante, mi sia ancora nel cuore, però l'Erba mi ha dato tanto e io vi ringrazio tutti, di avermi anche sopportato, di avermi infilato un po' dappertutto come il prezzemolo. Ed ora è il momento delle brevi dall'Erba. La tienda USL Toscana Nord-Ovest ricorda che per l'accesso ai servizi di prelievo sangue e consegna dei campioni presso l'ospedale di Portoferraio è preferibile utilizzare la piattaforma Zero Code. Gli utenti avranno priorità di accesso rispetto a chi si presenta direttamente, modalità consentita esclusivamente per ricette urgenti o consegne di campioni che non richiedono prenotazione. Chi effettua la prenotazione su Zero Code non ha necessità di prendere il biglietto al Totem, ma può accedere al servizio 5 minuti prima dell'orario di prenotazione e verificare la chiamata del proprio codice sui monitor. I biglietti del Totem saranno eseguiti una volta terminate le prestazioni degli utenti prenotati. Si può accedere a Zero Code dall'app Toscana Salute, dal sito aziendale o da quello della Regione Toscana. Verrà richiesto il codice della prescrizione, il codice fiscale dell'utente e un numero di cellulare. In ospedale sarà poi sufficiente eseguire l'accettazione e, se previsto, il pagamento del ticket. Nella mattinata di ieri, mercoledì 28 febbraio, si è tenuta anche a Portoferraio la manifestazione degli studenti delle scuole superiori albane in risposta ai fatti di Pisa e di Firenze. Il corteo pacifico è partito da Piazza Cavour e, dopo una sosta davanti alla targa dedicata a Ilario Zambelli, si è diretto verso le ghiaie, armati solo e unicamente di bandiere, cartelli per il cessato il fuoco in Palestina e buone intenzioni. Nonostante la pioggia, il corteo è stato partecipato, a testimonianza di quanto anche i giovani albani tengano a far ascoltare la propria voce. Presente è una manifestazione anche il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini, che si è intrattenuto con i ragazzi e le ragazze del corteo, affrontando insieme a loro i temi oggetto dell'iniziativa. Nel tardo pomeriggio di martedì scorso, lo spiaggiamento della carcassa di una femmina di Stenella sulla spiaggetta del Sasso a Riomarina. La Capitaneria di Porto ha prontamente allertato la dottoressa Mancusi dell'ARPAT, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, che ha attivato le procedure dell'Osservatorio Toscano per la Biodiversità. Grazie al personale della Delegazione di Spiaggia di Riomarina, la mattina successiva i volontari dell'Associazione Elbamare sono intervenuti per svolgere i rilevi necessari, utili per comprendere le cause del decesso del cetaceo e ampliare la conoscenza sullo stato di salute di queste splendide creature marine. Successivamente la carcassa è stata rimossa grazie anche al tempestivo intervento diretto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Rio. Nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio, il Comune di Capoliveri ha comunicato che la strada che collega Mola alla località di Naregno è chiusa per Frana, all'altezza del Bivio che porta al cantiere di Mola. La Frana è sicuramente dovuta alle copiose precipitazioni di questi giorni ed ha costretto il Comune ad interrompere il transito all'altezza del Bivio per i cantiere di Mola. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e la strada dovrebbe essere riaperta al più presto. E brevi come al solito chiudono questo nostro telegiornale. Grazie a tutti per essere stati con noi e a tutti un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.